bentornati sul mio canale youtube dental care in questo video vi parlerò dei vantaggi e degli svantaggi dell'acquisizione della postura eretta da parte dell'uomo ti ricordo di iscriverti al canale in modo tale che tu possa sempre rimanere aggiornata su tutti quelli che sono i contenuti che pubblico parlo di argomenti prevalentemente di odontoiatria ma anche di medicina a scopo divulgativo di informativo ovviamente perché l'uomo ha acquisito la stazione eretta banalmente perché appunto era più semplice raccogliere la frutta e utilizzare le mani infatti il fatto di camminare su due gambe permette di conservare più energia in quelli che sono gli spostamenti soprattutto quando l'uomo appunto era un cacciatore raccoglitore per potersi spostare doveva fare lunghi chilometri e quindi per questo motivo la stazione eretta era vantaggiosa ovviamente tutto questo porta con sé però anche dei lati negativi degli svantaggi quali sono questi svantaggi in primo luogo la perdita di velocità in secondo luogo una minore capacità ovviamente di arrampicarsi sugli alberi e poi in terzo luogo anche una maggiore incidenza anche del mal di schiena come vedete appunto in questa foto se abbiamo il mal di schiena questo è da attribuirsi soprattutto alla stazione eretta come vi ho già parlato in uno short mio precedente che potete trovare sul mio canale l'ultimo svantaggio che la stazione eretta ha determinato è nell'ambito della gravidanza infatti è più faticoso camminare quando appunto la donna è gravida se si è bipedi praticamente perché il balicentro corporeo si sposta in avanti e questo provoca un sovraccarico vertebrale perché il peso aumenta addirittura di 7 kg quindi immaginate ovviamente quanto sia tra virgolette scomodo io spero che questo video ti sia piaciuto lascia un mi piace condividi il video iscriviti al canale e ti ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao